Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione? Mamma, la teleselezione non costa tanto. Ah, davvero? Bellissimo. È vero. Per esempio, tre minuti in teleselezione da Milano a Palermo costano al massimo 2000 lire, come un cono gelato. Ma allora mi pensi? Ma quanto mi pensi?